La situazione abitativa nelle palazzine dell'Ater di via Balzerini a Teramo, che ad oggi ospitano 15 famiglie sfollate a seguito del terremoto del 2016, è sull'orlo del collasso. L'assenza di finestre negli spazi comuni e un impianto domotico sempre attivo hanno fatto schizzare le spese condominali per l'energia alle stelle. L'assessore comunale Pina Ciamariconi ha rivelato che Enel ha inviato una comunicazione all'Ater e al Comune, avvertendo che il collegamento elettronico provvisorio istituito il 7 febbraio dopo un precedente distacco per morosità, sarà interrotto il prossimo 28 marzo se l'Ater non salderà il debito per l'energia consumata. Le scale e i corridoi sono privi di finestre, quindi saranno al buio completo, perciò le persone che dovranno scendere le scale per forza dovranno uscire con delle torci anche alle 8 del mattino, anche a mezzogiorno e per di più non avranno più neppure la possibilità di vedere la televisione e mi pare che in un posto così con tutti gli disagi che hanno anche questo che potrebbe sembrare una stupidata in realtà non lo è. Queste famiglie vanno tolte da qui, hanno già subito troppo, non è più possibile tenerle qui. Se il distacco dell'energia avverrà come preannunciato, i corridoi, gli spazi comuni rimarranno al buio, aggravando la precarietà in cui queste famiglie trascorreranno la Pasqua. Senza luce condominiale non funzioneranno riscaldamento, ascensore e televisioni, lasciando gli inquilini in una situazione di grande incertezza. Io dal 7 di febbraio che sto a casa col capote, col plate, ci mangio, ci dormo, quando vado a letto le lenzuole sono bagnate. L'immobile mi si sta a intrammire tutto, non mi si chiude perché c'è l'umidità, se non c'è riscaldamento, io abito di sopra, il sole non ce l'ho e allora io non posso vivere più qua. Io prendo solo le bollette della casa e poi senza riscaldamento dobbiamo pagare tutto questo sopra. E senza ascensore? No, senza ascensore, senza niente, pulizia delle scherze, qua è un disastro. Alcune famiglie di fronte a queste difficoltà hanno già richiesto e ottenuto il trasferimento da via Balzarini ad altri alloggi ATER. Tuttavia l'assessore Ciamariconi sottolinea che l'ATER dispone attualmente di soli tre alloggi disponibili a Teramo e 13 a Mociano. È la regione che attraverso la protezione civile ha dato i soldi all'ATER, è l'ATER che ha acquistato, quindi è un problema che l'ATER deve rispondere di questa scelta sbagliata che è stata fatta all'origine. Questa non è una palazzina per tenerci delle famiglie, quindi è l'ATER che deve rispondere. Il Comune piuttosto che cercare di mediare, cercare di aprire un tavolo per vedere quali possono essere eventuali soluzioni, non può fare.